Grazie, molto spesso sono stato abituato a parlare in pubblico, in tutti i sensi, alle lezioni, ai colleghi, anche a fare teatro, come sto facendo da tre anni, ma vi giuro che oggi sono abbastanza emozionato, perché ieri ho incontrato 40-50 persone che conoscevo. E' bello come ha detto Heavy ritrovarsi così, insomma è stata un'emozione, perché condividiamo insieme una cosa che è soprattutto basata sulla prevenzione, ma non solo, e poi le varie sfaccettature, ognuno di noi è un uomo di scienza, ma con le sue competenze e rispetta le competenze degli altri, questo è molto bello. Comunque cominciamo, venti anni fa, sono venti anni, arriva una scatola nera in Italia, era proprio una scatola nera, era anche di colore nero addirittura. Giorgio mi ricorda ancora quella telefonata, un amico comune mi chiama e io ero nei viali di Firenze, stavo camminando e mi dice guarda c'è un amico, ti metto in contatto, un certo Giorgio Teziani, che presenta un prodotto particolare. Cioè era una scatola nera, si cominciano a fare i corsi e quando si facevano questi corsi io veramente non sapevo che pesci prendere, perché mi diceva un attivatore mitocondriale, tante belle cose, io dicevo ma eh, ho capito, ma facevo i corsi sul mitocondrio, mi chiamavano Mr. Mitocondrio, ti ricordi? Però non sapevo veramente dove agiva, perché mi dicevano, Storrey, questo fisico e biologo, attenzione fisico e biologo, quindi Giorgio fisico, cioè, allora, che è la tecnologia dell'ascissione dell'acqua per la bomba idrogeno. Io gli dico, ma che siamo pazzi, ci ha detto, ma questa è follia pura. Poi vado a fare delle indagini e scopro che Einstein era in contatto netto con Storrey, si complimentava spesso per i suoi. Allora, e va a vedere anche le azioni, nasce ossigeno, cioè, genera ossigeno nascente e idrogeno, con quell'utilizzo di questo solfato di deuterio. Allora, io ero, in quel momento, un farmacologo, per esempio, dalla farmacologia all'interno della farmacologia, in crisi profonda, in crisi veramente profonda, perché mi ero già avvicinato alla nutrizione funzionale, alla fitoterapia, cioè alla farmacologia, quindi, attenzione, è farmacologia che non sintetica, sia ben chiaro. Quindi, era un momento di crisi tremenda, per cui dico io, beh, vediamo un po' che, però ragionavo ancora dal farmacologo puro, ci sarà un principio attivo, no? Non lo pensava. Perché? Mi parla di questo deuterio, e naturalmente unico, ah, Carmelo, quando mancano cinque minuti, avvisami, eh. Unico isotopo dell'idrogeno non radioattivo, cioè sul web, gente che scrive, attenzione al self-food, è la bomba, cioè, vabbè, allora si blatera sul web, no? Ovviamente. L'importante è che, comunque, effettivamente, è più, non si tratta altro che del nucleo dell'idrogeno, come ci potrebbe insegnare il nostro caro Pier Giorgio, e non solo, che è appesantito, c'è un neutrone in più, quindi, invece di avere, si tratta di avere un neutrone, perché l'idrogeno non ce l'ha, non ne ha bisogno, c'è un solo protone, ma già se vai all'elio, hai bisogno, perché sono particelle cuscinetto, questi sono i neutroni, particelle cuscinetto. E, naturalmente, dico io, ma come lo butti in acqua e che fa, genera l'idrogeno, ma siamo impazziti qui? Cioè, allora, va, accidenti, ma, cioè, questo è riuscito, sarebbe una scoperta straordinaria, questo. E, allora, uno ci pensa un attimo e dice, ma l'acqua, dice, ma l'acqua, un momento, molecola anfiprotica, doppia natura. Ieri tu hai detto, giustamente, in quel bellissimo incontro, che le reazioni, e se non ci fosse l'acqua, è un problema, effettivamente non ci si pensa mai, acqua e ossigeno. Non a caso, ieri, anche tu, che hai fatto la bellissima relazione sugli acidi grassi, hai detto proprio questo, che cos'è che passa quando una membrana, vero? L'acqua e l'ossigeno. Cioè, è l'unica cosa, perché poi il resto, a caso della rigidità, in quel caso, allora dico io, vabbè, vediamo un pochino, e comincio a pensare, allora, se ci deve essere un meccanismo, noi conosciamo i legami omopolari, che sono quelli fra atomi della stessa natura, quando c'è un legame chimico, è una condivisione di elettroni, a una distanza ottimale, ma c'è anche il legame, è abbastanza infrequente questo, si guarda gli elementi, per esempio, puri, idrogeno, ossigeno, eccetera, l'azoto. L'eteropolare è uno spostamento di nube elettroniche, verso l'atomo più elettronegativo, che, guardate bene, è trainato, questo dico sempre agli studenti, e non dovete ragionare la chimica, no, la chimica, è quello il motivo tra la stabilità, stabilità energetica, e quindi in questo caso di configurazione elettronica. E nel caso specifico, facciamo per esempio un esempio, se fosse acido cloridrico, idrogeno, cloro e cloro, essendo più elettronica, si succhia la nube elettronica, fino ad arrivare al punto che, se questa elettronegatività è molto più alta, guarda il caso del cloro rispetto al sodio, che invece ha una eccellente affinità elettronica, perché dice, a me mi manca poco per raggiungere il gas nobile, a te ti manca, disambiamoci, e diventano ionizzati. Allora uno pensa, ma l'acqua, quando è in condizioni acide, forma un ione, che è l'ione idronio, ossonio, risonante, i legami sono risonanti, perché uno dice, ma sì, vabbè, è così, ma chi ti dice che la carica non sia qui, perché sia qui o qui? Infatti risuona un terzo, un terzo, un terzo. Allora io ho pensato, questa risonanza elettronica, un deuterio al posto dell'idrogeno, che cosa può causare? Per esempio una difficoltà di ionizzazione, e forse una modulazione nella scissione del legame. Allora l'unica spiegazione che ho dato è che si potrebbe proprio agire qui, perché se no non mi giustifico l'idrogeno e l'ossigeno, non esiste. Allora io però non ci ho mai creduto fondamentalmente, perché se questo fosse vero si genera un radicale, un radicale. Certo sono così stabili che subito si trovano. Cioè nel milionesimo di secondo si trova subito e genera appunto idrogeno e ossigeno. Ma attenzione, uno dice, sì certo, se mi genera l'idrogeno, per carità, il ciro di Krebs utilizza l'idrogeno, ci pari vero anche. L'ossigeno stesso insatura l'emoglobina. E quello che io dico a Giorgia mi diceva, ma fa le prove, ho fatto le prove in laboratorio, vitro ed ex vivo in pazienti, somministrando self-food e vedo una strutturazione 100% dell'emoglobina. Scambiate anche con vari amici medici, biologi, farmacisti, mi telefonano, guarda, a me mi torna, cioè, allora, questo è sui, da dove viene fuori? Viene fuori dall'acqua, perché non c'è verso, se no. Una saturazione completa. E quando Giorgio faceva vedere quelle slide, che ho sempre contestato, che mi fa vedere o più o meno, che sono appannaggio dei chimici puri. Perché mi dicono, eh sì, è o più. No, attenzione, è l'ossigeno singoletto. È il singoletto l'ho più. Cioè, nel senso, un tremendo radicale, che se trova però un altro elettrone spaiato, si stabilizza. Quella può essere la spiegazione. Perché se no, vedi Giorgio, io te lo lancio sto messaggio, rivediamolo, c'è anche Kevin, rivediamola questa cosa, perché se no siamo attaccabilissimi. Cioè, il fisico ti sollera, il chimico non ti sollera, poi, alla fine. E allora, vedete, uno dice, allora se si genera ossigeno, mi viene a pensare alla saturazione emoglobina, mi torna. Perché da qualche parte ci siamo chiesti, con i colleghi che ci telefonavamo, ma da dove viene fuori questo ossigeno? Attenzione, e lì però, a me non mi basta. Perché indagando, indago e vedo un lavoro bellissimo. E ritorna il mio cervello da farmacologo. Il principio attivo, e molto spesso si sbaglia, però, no? Vedete il caso del vino rosso, si diceva che si era a cena, e il resveratrolo. Che, cioè, era impensabile che fosse solo quello. Shepinov, un russo che è andato in America, poi è tornato in Russia, ora perché le cose sono un po' cambiate, ma, cioè, dice, attenzione, se noi, nel 2007, abbiamo fatto una serie di studi, appesantiamo gli atomi, i cibi, complesa l'acqua, che il carbonio 13 e il deuterio, io ho notato negli animali di esperimento una sopravvivenza di almeno il 30% superiore di vita, l'aspettativa di vita. Non per non parlare di quelle che sono le azioni che avvengono in vitro, le azioni soprattutto radicali che vengono bloccate. E allora, io vado avanti e studio questo lavoro, cominciò a dire, ma questo Shepinov sta a vedere. Naturalmente, appaiono i giornali, come al solito, con scritto, ha trovato l'elisir di lunga vita, forse basta un bicchiere d'acqua deuterata. E tutti, naturalmente, che sapevano la collaborazione che avevo l'amico Giorgio, ha visto, eh, faccio, ha visto cosa? Non ti penserai mica il Ministero della Salute, mi state riprendendo, anche vero? Cioè, quindi, domani viene a dire, signori, facciamo un brevetto al deuterio, ma questa è fantascienza pura, pura fantascienza proprio, Star Trek, Next Generation, perché non esisterà mai questo. Come disse una volta, io all'Ordine dei Medici di Roma, quando una dottoressa mi fece una domanda, dice, la prevenzione, eccetera, eccetera, e le dissi, dottoressa, scusi, ma lei crede veramente a quello che sta dicendo sulla prevenzione? Le dissi, in che senso? No, perché se fosse così, guardi che l'industria farmaceutica sparisce? No, faccio sta domanda, ha detto io, e lui è messo abbastanza in difficoltà, mi disse, no, ho capito quello che vuole dire, no, spieghiamo questo, perché noi stiamo lavorando per la prevenzione, ma non so se la pensano altri in questa maniera, e allora dico io, questo scefino comincia a dire, ma perché accade questo? E pubblica lavori, parla anche il Carbonio 13, quindi pensa, anche quello, va avanti e scopro, preparando sta relazione, che lui attualmente, ad oggi ha fatto, solamente per esempio, sugli acidi grassi polinsaturi, un target, la bellezza di oltre 25 lavori, è tornato in Russia, si spallotta con l'America, cioè sta andando avanti, sta vedendo come, allora guardate come, attenzione, la spiegazione che si può dare è questa, facciamo un esempio, classico legame ammidico nelle proteine, giusto? c'è un legame, vedete, di tipo, con l'azoto, diciamo, di un amminoacido, e il gruppo carbossilico dell'altro, appunto, il famoso legame ammidico, che tanto stabilizza, dice, una struttura come le proteine, prendiamo ad esempio la proteina, da quali legami, è, diciamo, garantita, intanto, interazioni elettrostatiche, idrofobiche, Van der Waals, per esempio, che sono molto deboli, legame idrogeno, che non sono, lo scherzo, un decimo legame covalente, e le punti di solfuro, che di fatto sono covalenti, e allora uno le va a vedere, dice, ecco qua, e allora uno dice, ma quale sarebbe il target, per esempio, dell'ossidazione? Ah, ve lo dico subito, sicuramente non questi, questi sono, in primis questo, e poi questo, prima il più debole viene subito trinciato, ma si sta parlando della struttura terziaria delle proteine, o anche secondaria, quindi cambia completamente, già, avete visto quanto banca poco in una proteina, per fare danni in mani, si pensa alle talassemie, una sola variazione, danni in mani, quindi questo significa, avere un attacco di questo tipo, e in particolare, uno schema che ha fatto Scepino, mi ha veramente colpito, dice, guardate, questi sono i legami, carbonio, idrogeno, benissimo, ora vedremo che tipo di legame, lo vedete che, il radicale, attacca facilmente, proprio queste zone qui, ma in particolare lo vedremo, e quindi diciamo, c'è il danno, di fatto, alla struttura proteica, ma quando è deuterato, ho appesantito l'atomo di carbonio, col carbonio 13, non c'è questo effetto, allora ho detto, andrà avanti questo nelle ricerche, è andata avanti, è andata avanti, cosa ha studiato, ecco perché ieri mi sei venuto in mente, carissimo, complimenti per la tua relazione, ieri, che è stata didattica, guarda, ti posso garantire, è andata avanti sull'acido arachidonico, ha detto, il padre di tutte, quando parla di infiammazione, cosanoidi, e li va a vedere e dice, eccoli qua, vediamo un po' cosa succede, vedete Sheffinov, guardate per esempio, una propagazione, lipido insaturo, radicale lipidico, vedete, tutto avviene nell'acqua, naturalmente, l'idrogeno è, la fa da padrone però qui, nello scambio, radicale perossilico, il lipido insaturato, e poi il lipido però, quello che attacca le membrane, quello che attacca le membrane, comprense anche quelle mitocondriali, allora guardate cosa succede, questa è stata una review che li hanno fatto su frontiere in fisiologia, quindi significa, che in questo momento lo stanno guardando, perché queste review, non è che accettano il bollettino dei chianti fiorentino, cioè accettano, la gente dice, un momento, questo sono 15 anni, 10 anni che lavora su queste, andiamo a vedere cosa ha fatto, e lui dà un'interpretazione, dice, guardate per esempio, l'ala, acido alfa-linolenico, se lo utilizziamo, e questo è il tipo di idrogeni, questo di fatto non c'era più la cascata infiammatoria, soprattutto che porta le prostagrandine pro-infiammatorie, in particolare i trombossani, questo lo ha visto in quel lavoro che vi ho fatto vedere su PAM, e qui non ho tempo in questo momento di far vedere, sono meno sensitivi, ma bellissimo perché ha fatto un lavoro, in vitro, ex vivo, sugli animali, e sugli uomini ha cominciato, il suo gruppo, e ha visto infatti, non solo, che questa, il padre, tutta la cascata iniziale, l'acido alfa-linolenico, tutti gli acosanoidi, in fase iniziale, vengono protetti, dalla deuterizzazione, ma addirittura andare a vedere, che c'è un blocco, dell'arterio, ma perché dell'arteriosclerosi? E io vi lancio un messaggio, come deve essere il colesterolo, per attaccare l'endotelio, la disfunzione endoteliale, ossidato e glicato, è inutile, e ora ci devono proporre anche, scusate l'occasione, che devo buttare giù il colesterolo, e l'IDL sotto 40, alla fine ce la zeneranno il colesterolo, voglio vedere un pochino, per una placca, per l'altissimo rischio, ma se quello c'ha, come sappiamo tutti, una placca instabile, a voglia ti abbassagnero, quello schianta, e non schianta per il colesterolo, scusate il messaggio, ma le linee guida, adesso hanno anche imbottigliato, i cardiologi in questo senso, quindi la lipopressidazione, qui è molto importante, c'è anche il collega dell'ordine di me, c'è questo messaggio, mettiamolo anche, e quindi attenzione, e guardate, per esempio addirittura, sulle basi azotate, purine, in questo caso le purine, la guanina per esempio, in questo caso lo vedete qual è, se si ossida, e per dare l'otto, il otto oxo di guanina, lo vedete, idrogeno, idrossile, e doppio legame, e questa è qui, attenzione, ed è questo, questa è mutagina, questo è il danno che fa, per esempio, la vitamina C, hanno detto, ad alto dosaggio, farebbe questo danno qui, cioè, hanno visto su questo, allora, attenzione però, se questi idrogeno, vengano addirittura protetti, deutilizzati, e il carbonio, viene fatto come carbonio 13, questo processo si blocca, quindi anche l'elica del DNA, è protetta, questo è lo studio che stanno facendo, e vedete, questa è una reglia, che ha fatto Shefinov e Pestov, e hanno detto, sapete quali sono gli idrogeni scambiabili? Come dice, allora tutti, no, attenzione, non quelli, con legame, il legame deve essere ben polarizzato, questo per esempio, non è scambiabile, perché carbonio e idrogeno, hanno elettricantività, che non è molto lontana, 2, 1 e 2, 5, invece guardate questo, ossigeno e idrogeno, questo è scambiabile, ed è lì che si va ad agire, non a caso avete visto, è questo, eccolo qua, qui si riesce a proteggerlo, quindi c'è idro nei punti focali, e questo ci fa capire, che dove c'è il legame polarizzato, forze di Wanzel-Wartz, interazioni elettrostatiche, si possa avere questa azione protettiva, da parte del deuterio, quindi come vedete, non è più una scatola nera adesso, ha cambiato anche il coloro, è diventata bianca, si è veramente pulita, e poi è successo, negli anni, sono arrivati poi, quando io e Giorgio, nel 2009, per questo è un'emozione, perché dopo dieci anni, esatto, ero arrivato, sono arrivato alla Spezia, Giorgio mi disse, vorrei veramente un tuo supporto, io gli ho detto, guarda Giorgio, tu devi fare i lavori scientifici, se non ne cavi le gambe, e arrivano così, Franco Canestrali, Serena Benedetti, Poi la Galati, anche, arriva tutto il gruppo di Maria Elena Ferrero, la sorella, Elisabetta, Fulgenzi, e io sono rimasto abbastanza sorpreso, soprattutto, guardate, allora, conoscendo poi Franco, l'ho detto, vabbè, ma Maria Elena Ferrero, io ho conosciuto delle sue sententesse, prima di farti fare un lavoro, ti fa un mazzo così, cioè, perché è veramente, la donna di scienza, c'è Maria Elena in sala, a me naturalmente, è una donna di scienza, è un pignolo nella ricerca, e io sono rimasto veramente sorpreso, soprattutto per la tipologia delle ricerche che ha fatto, ovviamente, i nostri amici, Franco e la Serena, hanno fatto un lavoro di tipo vitro, perfetto, sul concetto dell'antiossidazione, ma Maria Elena addirittura è andata, in un altro tipo di sfaccettatura, confermando, la cosa importante è che tre laboratori diversi sono confermati fra di loro, questo è impressionante, cioè, Urbino, Milano, Roma, cioè, non è che l'ha fatto solo un laboratorio, per questo sono rimasto, soprattutto anche per la tipologia delle ricerche che poi sono andate avanti, e allora dico io, manco cinque minuti? Perfetto, ora in questo momento, sono anche in anticipo, guarda, benissimo, allora, eccoci, comincia a essere schiarito questa scatola nera, ci si comincia a vedere più chiaro, e naturalmente è una soddisfazione vedere ritrovarsi tutti qui dopo tanti anni a condividere queste cose, non potrei far meno, ma tantissimi volti che vedo qui, che abbiamo scambiato in questi anni, io ho definito Giorgio un enorme catalizzatore, un enzima enorme che riesce a mettere tutte queste reazioni biologiche insieme, un biochimico, veramente non lo sa, ma lui è una molecola di fatto, cioè che riesce a metterci tutti insieme, e che negli anni ha creato una bellissima sinergia, perché poi siamo diventati amici, ci scambiamo, pur anche dei contrasti iniziali anche con Pio e Giorgio, ma Pio e Giorgio mi prende in giro, mi dice sempre, vedi che i fisici, e ho detto, Giorgio, è vero, i fisici sono superiori, hai ragione, non a caso mi inchino alla fisica, e la mamma di tutte le scienze, mi glielo ha detto anche a Paoli, però rispettaci anche, noi siamo tuoi figli, cioè i biochimici e i chimici comunque, e voglio concludere con una cosa, allora guardate, tra l'altro c'è l'amico Massimo, l'ho visto proprio, siamo sentiti giorni fa, noi in questi ultimi due o tre anni abbiamo fatto anche questa opera, a cui ho fatto parte, Massimo e il dottor Bevacqua hanno tirato su questo bellissimo volume, io guardate, a parte il volume che abbiamo fatto con Giorgio, questa è veramente, vi assicuro, una specie di piccola encilopedia, soprattutto perché è stato chiesto a ognuno di noi di fare in maniera dettagliata l'argomento che conosceva, oggi non ho parlato della metilazione, c'è chi mi chiama ovviamente il metile vivente, che sapete farci da anni questa battaglia con l'omocisteina, oggi non era il momento diciamo di farla, però vi assicuro che leggendo poi, ieri ho visto nascere, questo volume che vi dico in due anni, un bombardamento da parte della casa editrice, mi raccomando attento a questo, attento a questo, no rimetti questo a posto, è una cosa amicidiale pubblicale, mi rendo conto quindi il lavoro che, Massimo, ecco che sei in sala, e Enrico che mi telefonava mi diceva, guarda sta attento qui, però è nato, è nato questo figlio, può darsi che sia solamente l'inizio tra l'altro, perché poi avrà bisogno, nel momento in cui l'ho scritto, lo dicevo anche a Enrico, ho detto Enrico l'ho scritto, già mi sono reso conto, l'epigenetica è già cambiata, sono uscite fuori dai lavori negli ultimi tre anni, eh no ma ora va così, poi si farà, e tutto questo verrà poi, ecco presentato, quindi non vi dico comprare, cioè guardate, sui libri sono molto pignoli, mi conosce, è veramente un bel testo, verrà fatta il 7 dicembre, un incontro a Milano, di presentazione della medicina funzionale, di tutti gli autori principali di questo libro, che sosterrà appunto la Gemoli, che è la piattaforma, la piattaforma diciamo, di divulgazione scientifica, a cui ho aderito, perché mi ricordo, abbiamo fatto un incontro a Roma, circa due anni fa, a vero Massimo, due anni sono, viene proprio detto, contro le fake news, io finisco con questo messaggio, tutti noi siamo qui per fare divulgazione, scienza e condividere amicizia e scienza, mi raccomando, ognuno di noi faccia un ruolo con i pazienti, con gli amici e con i colleghi, bloccare le fake news, quando uno viene in studio ti dice, hai sentito dire che, per quanto bisogna essere preparati, aggiornati, che il figo di India ha culatumori, dove l'hai letto? Dove l'hai letto? La fonte, dice quale fonte? Sembra la fonte, la fonte Sant'Anna, cioè la fonte bibliografica, dove l'hai letto? Perché, ecco, lo blocchi subito, perché non vale niente, perché se in questo momento, dicevo ieri, io, Massimo, facciamo un lavoro, e appunto sul figo di India il tumore, domattina facciamo un lavoro, perché diranno, accidenti sono autorevoli questi, oh, cioè quindi la fonte bibliografica, non bisogna essere divulgatori di scienza corretta, e quando ci vedono fermi, anche un collega, l'hai sentito dire dove? Dammi il lavoro, io te ne do uno, ta, cioè subito così, eccoci, capito? Però bisogna essere preparati, aggiornati, essere sempre pronti a parare. Grazie a tutti, veramente, vi lascio, bello, grazie.